Se anche voi vincere una skin, un ballo o un piccone, bene, iscrivetevi a questo canale, lasciate like a questo video, in commenti, hashtag partecipo Peso di fighetti, qua è Sykes, sono tornato in questo nuovo video perché oggi vi mostro come tenere tutte le skin nuove non ancora uscite Su Fortnite, ma come sempre prima di iniziare ogni video vi ricordi di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e nulla raga Oggi farò vedere come avere la galaxy, la skin galaxy, il panda e tutte le altre skin nuove, anche il goal trooper Iniziamo subito con il video Ok raga per fare questo glitch bisogna avere un computer, per forza un computer, poi dovete andare su google e cercare HXD Dopodiché cliccate sul primo sito, HXD, qualcosa, cliccate su download, come state vedendo nel video c'è scritto download now Cliccate su download, fate il download, dopodiché avete scaricato l'applicazione dovete aprirla Dopo averla scaricata dovete andare su file, open, andate su download, andate su epic games, Fortnite, andate su Fortnite game, content, pack Dopodiché dovete scegliere quello dove c'è scritto 4.686.000 KB Dovete mettere quel pacco Ok fatto questo dovete andare in alto, fare search e qua dovete scrivere Havoc L'arco della skin sarebbe l'Havoc Ovviamente l'agra con questo trucco potrete importare le skin che volete voi Quindi in questo caso io importo il goal trooper Come state vedete prendere la parte, l'ho scritto CID e copiarla La incollate su qualche block note, su qualche, su qualcosa sul computer, qualche note sul computer così per non perderla Perché ci servirà dopo Quindi incolliamola da qualche parte, io come state vedendo la incollo su questo note Ok fatto questo andiamo su search, cerchiamo goal trooper Appena avete cercato goal trooper fate ok Questo qua è per chi vuole la skin del goal trooper Io l'ho voluta quindi l'ho fatto Copiate il link da dove c'è scritto CID e poi tutto il codice Fate copia e lo incollate sul note di prima Così per salvare il codice Ok fatto questo chiudete l'applicazione, la riaprite Andate su file, open e mettete questo qua, il terzo ultimo E questo qua sarebbe per i balli Poi andate su search e cercate Aid, id, dance moves Fatto questo lo cercate Dopo averlo cercato ci uscirà ovviamente il risultato Dopo aver fatto questo dovete cancellare la scritta Quella che vi sto tracciando adesso E dovete cancellarla e scrivere boogie down Così vi salverà il ballo boogie down Ok fatto questo bisogna solo andare in alto a sinistra A fare su salva e il lavoro è completato Fatto questo entrando nel gioco dovremo avere il goal trooper E quella skin motociclista bianca Questo qua non è il mio profilo ma perché ho di un mio amico Che mi ha inviato il video perché lui aveva fortnite sul pc Io l'avevo cancellato quindi lui mi ha inviato il video E io ve l'ho portato a voi Ok ragazzi entriamo su fortnite Vediamo quanto ci metterà a caricare il nostro carissimo amato fortnite Potete farlo anche se avete ps4 Perché dopo aver importato le skin su pc Ce le avrete anche su ps4 Però non potete usarli in game Però comunque potete averli in lobby E farsi fighi con gli amici 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti